La tua, alla fine con una grande parata o una grande vittoria della Roma? Tu che sarai stare qui? Sto usciuto da più? No, pure. Siamo al tappo in campo a tutti, non ho provato. Siamo rinunciati a cercare. Anche il pubblico ti ha aiutato a... Vai su, vai via proprio. Non vieni davanti? Cos'anno? Vabbè, sì. Sì, è stato grande. Trovarsi pronto in ogni momento. No, no, in squadra c'è a dire, no, no, in squadra c'è a dire, no, in squadra c'è a dire, no, in squadra c'è più gusto a battere l'Inter in questa maniera, proprio all'ultimo respiro. No, no, pure. Da domani, no, per fare un'altra parte. Stiamo a stare in squadra in squadra in squadra e lavorare. Qual è il rischio? Dopo la partita, dopo aver battito l'Inter? No, tutto più, ma per stare in squadra in squadra in squadra in squadra in squadra in squadra. di martedì contro il cruce, ma non sarà facile. Personalmente, su di te questa settimana, in questi giorni, tre giorni, parlando del tuo ruolo da titolare, si sono espressi tanti dubbi. Questo è normale. Una volta contro l'Inter in super poco è andato male, spesso è andato male. Andiamo a segnare? Massimo, Polo. Grazie, grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.